Proseguono nei quartieri i lavori del comune di Fano in sinergia con le segnalazioni dei cittadini e dei residenti. Alcuni giorni fa sono partite le opere per la messa in sicurezza di alcuni tratti stradali nelle principali vie e località della città. Il settore lavori pubblici sta intervenendo per la realizzazione di nuovi dossi rialzati per moderare la velocità di quegli utenti che non rispettano i limiti. Primo luogo ad essere interessato da questo tipo di intervento è stata la zona residenziale di Ronco Sambaccio dove numerosi cartelli affissi dai residenti che invitavano gli utenti a rallentare non sono serviti a nulla. L'amministrazione sta intervenendo in alcune vie della città con degli interventi di moderazione della velocità e alcune zone critiche come Rosciano, come Bellocchi o anche come vedete oggi qui a Ronco Sambaccio. Stiamo intervenendo con una serie di attraversamenti rialzati, i classici dossi asfaltati per poter rallentare la velocità. Più di un anno fa i residenti di questo borgo sono venuti in comune rappresentando questa problematica. Essendo una via di attraversamento la velocità è molto elevata. I residenti che vivono il quartiere 24 ore su 24 lamentavano la pericolosità e quindi il comune è voluto intervenire con questo intervento. L'intervento qui a Ronco Sambaccio sta terminando, manca la parte di segnaletica verticale e orizzontale. Nelle prossime settimane inizieranno quelli nelle altre vie della città. I prossimi interventi interesseranno le zone del centro abitato di Rosciano e lungo via 4 Novembre, successivamente le vie del quartiere di Bellocchi ed infine a Tombaccia. Tutti gli interventi sono stati frutto della segnalazione di vari cittadini ma soprattutto qui a Ronco Sambaccio c'è stata una grossa collaborazione con i residenti, un gruppo cospicuo, abbiamo fatto tantissime riunioni anche qui sul posto per capire dove posizionare precisamente i dossi, dove potevano dar fastidio o meno e quindi posso dire che c'è stata una grande collaborazione e ringrazio appunto tutti i cittadini attivi di questo splendido borgo.